Oltre 1200 chiamati in entrata e quasi 3000 in uscita, numerosi sms scambiati, oltre 2000 solamente quelli inviati. Ma anche la copresenza delle due utenze nel periodo successivo al primo maggio sul quale si poggia gran parte dell'impianto accusatorio. Era stato il consulente incaricato dall'avvocato di Mirko Lorenzo Alessandrini, l'ingegner Paolo Reale, a portare in aula questo spaccato nel corso della sua audizione. Un'istantanea del rapporto tra la casalinga ed il frate che evidenziava l'intensificarsi dei loro contatti dalla fine di febbraio 2014 al giorno della scomparsa, il primo maggio dello stesso anno. Una fita corrispondenza a tratti incessante come nei giorni precedenti alla scomparsa, quando i contatti telefonici tra i due iniziavano all'alba e si concludevano in tarda serata, interrotta bruscamente nel momento in cui della casalinga si sono perse le tracce. E sempre dall'analisi portate avanti dall'ingegner Reale emergeva la copresenza nella stessa zona dell'utenza di Guerrina Piscaia e di quella appartenente al religioso nei giorni successivi alla scomparsa. Il cellulare della donna si riaccesse infatti ben cinque volte dopo quel primo maggio, agganciando sempre le stesse celle del frate congolese Caraffello Sestino e Badiate D'Alda. E proprio sull'utilizzo del telefono di Guerrina, ma anche sul tema del fantomatica d'oggi zio Francesco, dovrà rispondere la prossima settimana padre Graziano, unico imputato nel processo per la scomparsa della casalinga di Caraffello. L'esame del frate era previsto per lo scorso venerdì ma è slittato al primo luglio a causa di un malessere che ha colpito il frate in convento nella notte prima del grande giorno. Pressione alta hanno sottolineato i legali in aula.